O il chirurgo, ho scelto la luce. Altra cosa, qua ci sono le posture, o le posture, ognuno c'è la sua, la grupper c'è la sua. Ecco, allora, non c'è nessuna postura, invece di stare così, la schiena dritta, invece di stare così, che è irrispettoso verso l'ospite, anche tu vedi istintivamente, come mi stai intervistando, non stai così, perché non stai così? Ho anche la forza dietro, ma anche perché è brutto, sicuramente giusto. Non è che uno intervista così, allora, ovviamente anche per rispetto, ti metti così, e quindi io sono, diciamo, proteso verso l'ospite. Mamma, questo aiuta anche a dire, sentivo anche cose, tipo, no, questo non è vero, il collo sta benissimo, ma c'è una cosa. Ma a tutti non si intervista con un collo, no, perché bisogna imparare. No, io sto solo così, sono dritta. No, sto...